Buongiorno da Fettino Online, partenza positiva questa mattina per la borsa, Fuzzimib in questo momento in guadagno dell'1,8-1,9%, siamo in prossimità di una forte esistenza, questa intorno ai 18.700 punti, 50% di tre, smette del ribasso dai massimi del 12 di ottobre, sopra quei livelli verrebbe ricoperto anche il gap ribassista lasciato il 28 di ottobre, quindi un segnale di forza incoraggiante che anticiperebbe il ritorno almeno in area 19.000, più probabilmente anche 19.250, se i prezzi non dovessero fare registrare almeno una chiusura oraria oltre 18.730-18.750 ci sarebbe invece il rischio di vedere poi ricoperto il gap lasciato questa mattina. Comunque l'intonazione del mercato in questo momento è positiva, ovviamente tutto è legato all'andamento delle elezioni presidenziali USA, per il momento i mercati si aspettano una vittoria da parte di Joe Biden che permetterebbe un aumento della spesa pubblica favorevole quindi a una ripresa più veloce dell'economia, ma come ben sappiamo il risultato ancora è abbastanza incerto, quindi potrebbero esserci poi sorprese nelle prossime ore. Oggi ci occupiamo di 4 temi, uno è relativo a un titolo francese, BNP Paribas che ha archiviato il terzo trimestre con un utile netto di 1,89 miliardi di Euro, in leggero calo dall'anno scorso ma meglio delle attese e anche ricavi pur se stabili sono stati a di sopra delle stime. Poi parleremo invece di 3 titoli italiani, Nexi, secondo il Financial Times in caso di fusione con la danese Nez, Nexi e il nuovo gruppo avrebbero la possibilità di risparmiare circa 150 milioni di Euro. Poi segnali positivi per Autogrill, secondo l'americana Hudson negli Stati Uniti ci sono segnali di ripresa dell'attività di ristorazione negli rapporti. Infine guardiamo Saipem, c'è tutto il comparto del petrolio in ripresa sia per i dati incoraggianti visti ieri da parte dell'economia, gli indici PMI per l'Europa e l'indice ISM manifatturiero per gli Stati Uniti, ma anche l'idea che la Russia possa non andare ad aumentare la produzione all'inizio del 2021 lasciando quindi i livelli attuali, il che vorrebbe dire ovviamente che sul fronte dell'offerta non ci sarebbero degli aumenti che potrebbero fare precipitare i prezzi. Quindi una notizia positiva per tutto il comparto petrolifero. Questo è BNP Paribas, vedete come i prezzi si siano mossi dal massimo di giugno all'interno di questo canale ribassista, il lato inferiore del canale è stato toccato nelle ultime due sedute settimana scorsa, la rottura a rialzo della linea mediana del canale che è intorno a 32,90, quindi una resistenza che i prezzi questa mattina sarebbero già lasciate alle spalle, è un segnale di forza che ci fa propendere per il test da parte alta del canale a 36,90. Solo la rottura anche di quei livelli permetterebbe però di ripristinare l'up trend di medio termine e di dare quindi la possibilità al titolo di riprendere a salire nella tendenza rialzista che si era vista dai minimi di aprile obiettivi al di sopra della linea verde fino al lato alto del canale a 43,70. Attenzione però perché come detto fino a che rimarremo al di sotto di 36,90 non ci si può sbilanciare a rialzo per il medio termine. Veniamo invece ad Autogrill che ha toccato nelle ultime sedute settimana scorsa i minimi di marzo, vedete da quei livelli sta cercando una reazione, anzi oggi ha addirittura accelerato, c'è una buona possibilità di salita, anche in questo caso il rimbalzo di breve non va confuso con la ripresa della tendenza rialzista, la resistenza da battere è quella intorno ai 3,72, quindi è anche il primo target per quello che riguarda il rialzo in corso, sopra 3,72, 3,75, segnale rialzista ci sarebbe in quel caso la possibilità di andare a ricoprire il gap del 13 ottobre, lato alto del gap a 3,90, quindi sopra 3,70, 3,75, prima resistenza 3,90, poi avremo una buona possibilità di crescita data dalla proiezione dell'ampiezza del canale ribassista che si era disegnato dai massimi di giugno verso l'alto, prendiamo l'ampiezza del canale e la proiettiamo dall'ipotetico punto di rottura, quindi al di sopra di 3,90, il target si sposterebbe intorno ai 5 Euro. Per quello che riguarda Nexi, il rimbalzo di ieri è scaturito, il rimbalzo visto dai minimi di ieri è scaturito dall'area del 60, 61,8% di tradesmente del rialzo dai minimi di marzo, ma soprattutto su Nexi avevamo una situazione di ipervenduto molto evidente, l'RSA è 14 seduta, infatti era ai minimi storici, vedete praticamente era stato così basso solo a marzo, dopo l'accelerazione ribassista di marzo, quindi una reazione era probabile, ora bisogna capire se la reazione sarà un vero e proprio tentativo di riprendere la tendenza rialzista o se si limiterà ad un rimbalzo di breve termine. Direi che a questo punto si può guardare la media mobile esponenziale a 20 giorni che passa intorno ai 14,65 Euro per avere un primo target di breve e un riferimento oltre il quale in caso di rottura avrebbe inviato un segnale di forza convincente. Infine Saipem già da qualche giorno sta cercando di interrompere nella precedente tendenza ribassista, i prezzi avevano fatto sudare freddo in questa seduta del 28 ottobre scendendo sotto i minimi del 25 settembre, poi c'è stato un rapido rimbalzo, questa fase laterale vista dai minimi di settembre a questo punto può essere considerato un doppio minimo. La rottura di ieri del massimo del 9 ottobre a 1,61 ha confermato il completamento del doppio minimo, il target è dato dalla proiezione dell'ampiezza di figura dal punto di rottura, si posiziona a 1,85, quindi dai prezzi attuali prima resistenza a 1,85 successiva intorno ai 2,02-2,03. È importante che le quotazioni a questo punto si mantengono di sopra di 1,60 per evitare di rientrare nell'ambito della fase laterale, quindi fino a che saremo sopra 1,60 si può continuare a sperare in una evoluzione positiva, magari non solo di breve termine ma anche di medio periodo o perlomeno limitatamente alle prossime 1-2 settimane, visto che è stata rotta anche questa linea di tendenza ribassista quindi ci potrebbe essere effettivamente un po' di spazio di rialzo non solo limitato all'intraday. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.